21, 36, 18, 28, 60, 35, 32, 45, 55, bingo in sala! Cosa non dipende? Io penso che adesso Geremia Corredoro si dispiace, perché lui, quel benefattore, le ha prestato i soldi per curarsi la salute cagionevole e mica per sputanarsi tutto a gioco da tardoli. Qui c'è un equivoco, io sto giocando con i soldi miei e questa è la mia vita privata. Eh sì che c'è l'equivoco, è grosso anche, perché lei non ha più soldi suoi, fino a completa restituzione del debito, e neanche vita privata. E' tutto di Geremia.